ciao amici siamo arrivati finalmente a istanbul prima tappa fatta abbiamo ancora tanta strada per chiunque tra un'oretta ci imbalchiamo per gli brevi ciao siamo partiti alla residenza e la maggior italiana stiamo avviando verso il centro della città è tutto sul lungomare dalla furta viene all'estero dal cameron soprattutto che è più vicino e poi anche magari dal sudafrica l'arance vengono dal marocco e le mele che vengono dall'europa qual è la ritualità delle maschere? ogni maschera rappresenta una provincia ma ogni maschera rappresenta una provincia? una provincia, se ne sono nove della provincia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti i 70 anni e sono anche considerati come veramente non molto grazie a tutti i vogliono ancora dare la benvenzione a questa giornata che è molto più grande perché è una vieita dame che va célébrare il 70e anniversario che va donare un concert made in Italia buonasera amici sono qui con Federico proprietario di Aquango questo bellissimo posto che ci ospiterà con il nostro made in Italia buonasera a tutti e benvenuti a Aquango Village grazie a tutti i nostri amici 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 Grazie a tutti.